Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Papa Francesco è stato ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. In un primo momento si era parlato di controlli di routine, ma poi la verità è venuta a galla. Il pontefice è stato trasportato in ospedale perché ha accusato un forte dolore al petto. Pare che Bergoglio abbia avuto una polmonite. Nel giro di pochi giorni, però, è stato dimesso dall'ospedale e oggi ha rilasciato le prime parole dopo le dimissioni. Il pontefice si è fermato alcuni minuti con i presenti fuori all'ospedale, tra cui ovviamente molti cronisti. Alla domanda come si sente, Bergoglio ha risposto, ho sentito solo un malessere, ma sono ancora vivo. Il pontefice poi si è complimentato con i cronisti per l'ottimo lavoro svolto in questi giorni. Il Papa celebrerà la Domenica delle Palme e di conseguenza anche la Santa Pasqua, prevista domenica prossima.